Della serie proviamo i nuovi snack, oggi proveremo il muso di maiale Tipo la blu già infatuata, la Chloé lì che attende Vediamo, sentiamo intanto l'odore Boh, è un odore strano Però è evidentemente un odore che a loro piace visto che mi stanno addosso Allora, Chloé, blu, no, Chloé La blu Allora, per la Chloé direi che è super approvato La blu invece se lo porta in giro, però non se lo caga proprio di striscio No, la blu zero proprio La blu è strana, cioè non se l'ha cagato di striscio, però dal sacchetto lo vuole Poi glielo dai e non se lo incula La Chloé è una fogna che ne vuole un altro